E va bene, andiamo a redare qualcuno. Chi si va a redare, chi si va a redare, chi si va a redare, andiamo a vedere un po'. Rap, fai sapere alla mamma che stai bene? Chiamo la mamma, la pasta alla carbonara, eh? La devo chiamare adesso? A quest'ora, la mamma. È l'una di notte! Va bene, la chiamo, arrivo. Datemi un attimo. Cazzo è il mio giornale. Ragazzi. Diamo la mamma a l'una di notte. Ok. Lo faccio per voi. Pronto. La pasta alla carbonara. Buona. Me la fai? Eh, quando te lo faccio? Venerdì. Venerdì? Sì. Ti viene in mente? Eh, così, è casuale. Può darsi, può darsi, non è escluso. Va benissimo. Ok. Ma cosa fai ancora sveglio, mamma? È tardi. Siamo golosi, eh? Sì. Ma cosa fai ancora sveglio, mamma? Dovessi andare a dormire? È l'uno e zero quattro. Vabbè, adesso ci vado. Va bene. Bravissima. Ciao a poco ci vado. Buonanotte. Ciao ciao ciao. A tutti, ciao ciao. Come a tutti. Ma ci ha fottuti, ragazzi. Ci ha trollati lei. Ma come buonanotte a tutti. Ma vaffanculo. Sapeva che era in live. Porca puttana. Che scam. Vabbè, niente. Vabbè, ragazzi. Ci ha fottuti. Come a tutti. Come a tutti. Come a tutti.